ecco ecco qua non parlando no meno male prova ora ciocco belli belli foto io ciocco belli qua in belli gioco io trentacette di gioco quindi tu vedi uno gioco belli qua non quasi poi io rinno io rinno è 84 belli che nella le foto poi poi vero che in belli li poi è vero dire io ho fatto intanto il palmo foto trentacette belli effetto io ciò come belli ne ho fatto però meglio io qua trenta otto belli foto poi io qua è trenta quello fa e no gioco luci ecco il luci belli luci me trentacette me vedi omba 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 e poi memmo memmo otto omba tipo fina ferme foto poi è vero fina li tempo li fina ciocco belli io pro belli fina foto lì io ho fatto qua io lo con button che faccio più rinno in effetto di foto eccolo qua luce fatto prima luce fatto oggi no un po fatto tempo io qua a a me m 48 tocco tocco luci lì e non qua il gioco il gioco del me io qua e poi vinti o vinti e nove fino a velli foto lì poi è vero io ho un nuovo studio di me qua ecco io ho fino a qua fino a qua fino a qua face, 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 no io qua prima foto poi tanto fate per me foto fino a fate lì se ne puoi vedere lì e se ne puoi vedere lì e se ne puoi vedere qua e io fino a qua ciao